A Single Man è un film del 2009 diretto da Tom Ford, qui al suo esordio alla regia. Il film è basato sul romanzo Un uomo solo di Christopher Isherwood. Siamo negli anni 60, per la precisione nel 1962, ed il protagonista di questa storia è George, un professore di un college universitario, appunto, americano, interpretato da Colin Firth, che ha deciso, a seguito della grande depressione inevitabilmente che l'ha colpito per aver perso da qualche mese il compagno di una vita, Jim, infatti, ha deciso a George di porre fine alla sua esistenza. George, infatti, ha deciso di trascorrere l'ultima giornata, appunto, dando gli ultimi scampoli di erudizione ai suoi studenti, magari reincontrando Charlotte, l'amica di una vita, ex amante, infatti, Julian Moore, in questo film, e, infine, suicidandosi. È un film tragico questo, un film tragico che racconta l'esistenza di questo George, interpretato, secondo me, in maniera molto suggestiva, molto sofferente, e è un film questo che, in qualche modo, va di pari passo con quella che è la importante elaborazione sentimentale, appunto, della propria situazione e la rielaborazione del proprio passato da parte del protagonista. È un film dai colori molto spenti, tendenzialmente, questo. In alcuni casi, addirittura, abbiamo un bianco e nero in determinate sequenze in cui abbiamo dei flashback con i personaggi, ma che, in realtà, ad un certo punto, in momenti precisi, calca la mano sui colori, calca la mano su quello che è, di fatto, in qualche modo, forse, la riflessione più importante, ovvero sia il momento emotivo-sentimentale legato al personaggio, che, magari, in qualche piccolo momento, avrà la possibilità, con qualcuno, magari uno studente, nella fattispecie Kenny, interpretato da Nicholas Holt, oppure l'amica Charlotte, interpretata da Julian Moore, appunto, avrà l'occasione di manifestare, effettivamente, almeno in parte, tutta la sua emotività e tutta quanta quella sua capacità, non soltanto di osservare, ma anche di sentire. È un film tragico, questo. Un film tragico che, secondo me, può vantare una messa in scena semplice ma estremamente suggestiva. Credo che sia stato utilizzato lo staff tecnico che venne utilizzato nella mia cara Mad Men, in realtà, per la ricostruzione scenografica dei costumi o quant'altro, per questo film, e, fra l'altro, non è l'unico contatto con Mad Men che c'ha, una telefonata, infatti, è un ennesimo contatto, grazie al mio caro John Hamm, e, complessivamente, questo film, che, nella sua oretta e mezza circa, oretta e quaranta, vola via che è una bellezza, secondo me, è una storia al tempo stesso profondamente triste, ma che, in realtà, a parte forse ad un certo punto, magari nel finale, riesce, tutto sommato, a mostrare un qualcosa di profondamente toccante, ma che riesce, comunque, in qualche modo, a essere, soprattutto, una elaborazione sentimentale, un'elaborazione sentimentale che fa il personaggio principale, appunto, George, e che, in realtà, di pari passo, fa anche lo spettatore, che, magari, potrebbe ritrovarsi nel caso di relazioni passate che si sono interrotte, e quindi, così come è il personaggio di George, che, in determinati momenti, con determinati particolari, oggetti o circostanze, va a ricordare l'amore passato, allo stesso tempo può fare lo spettatore. È un film, questo, poi, che racconta anche di che cosa? Racconta, almeno in parte, forse, di come è stato il passato e come poteva essere, soprattutto nella parte in cui abbiamo il personaggio di George, che, così come era andato al momento dell'annuncio della morte del suo compagno Jim, di nuovo ritorna dall'amica Charlotte, un ex amore dei tempi di Londra, appunto, che non si è concretizzato alla fine, o che si è concretizzato, lo ha fatto per pochissimo, e che poi, a seguito della manifesta, di fatto, in qualche modo, o se non manifesta, comunque implicita, reale sessualità del personaggio di George, alla fine ha visto la coppia scoppiare, perché, probabilmente, sia andata a formarsi poi la coppia di George e di Jim. Ma questa mancanza, in qualche modo, di relazione vera e propria che c'è stata fra i due a un certo punto, e soprattutto il fatto di non averlo mai trovato, ha portato, magari, il personaggio dell'amica, Charlotte, infatti, a provare sempre un qualcosa per questo George, che, inevitabilmente, probabilmente, è consapevole di questa cosa, ma che, comunque, ha fatto la sua scelta, nonostante, magari, Charlotte, adesso che, teoricamente, lui è sulla piazza, magari, e le stesse sulla piazza, in realtà, forse potrebbe volere qualcosa di più. Ma non è questo l'importante, in realtà, non è questo l'importante, anche se, secondo me, la parte, forse, un pochettino più interessante di questo film è proprio nella sequenza della cena, dell'aperitivo, o quello che era col personaggio di Charlotte, in realtà, quello che è importante, probabilmente, in questo film, è, tutto sommato, appunto, la rilaborazione. La rilaborazione ed, eventualmente, i momenti in cui, da quei colori, tutto sommato, abbastanza desaturati, abbiamo, invece, dei colori più accesi, che riflettano come il personaggio di George, appunto, riesce a manifestare agli altri, magari, soprattutto, a uno studente con il quale, forse, in qualche modo, sta entrando in sintonia, riesce a manifestare quegli aspetti emotivi e riesce, per certi versi, ad aprirsi al mondo. Ad aprirsi al mondo, così come, magari, per certi versi, forse, riesce a fare, davvero, oltre che con l'amica, soltanto, di fatto, con persone con cui non ha un reale contatto. Sto pensando, ad esempio, al prostituto spagnolo, che comparirà ad un certo punto in questa storia, con il quale, forse, trova un momento di contatto, ma, al tempo stesso, comunque, deciderà di allontanarsene, perché, comunque, non è ciò che gli interessa, in realtà. Non è quel tipo di legame quello che George va cercando. Un film emotivo, un film emotivo, tragico, che si fissa su determinate cose, ma che, nonostante si fissi determinate cose, e sia complessivamente lento, secondo me, non è percepito come lento dello spettatore sommato, almeno, per quanto mi riguarda, e, tutto sommato, nella sua orette 40 circa, mi ha volato via. Mi ha volato abbastanza via. Ho trovato anche tragicomiche in determinati momenti, e, in realtà, ho trovato un po' una pugnata al cuore ad un certo punto, una certa cosa, una certa cosa che, in realtà, poteva essere apparentemente presagita, ma che, in realtà, di fatto, secondo me, soprattutto in un certo punto, non lo è stata. È un film questo, comunque, che ha una sua estetica non soltanto visiva, ma anche concettuale, in realtà, e quindi, tutto sommato, forse, per creare una sorta di continuità con quanto si è visto all'inizio di questa storia, tutto sommato, ha senso che vede la sua storia concludersi in un certo modo. Se volete vedere un qualcosa di un pochettino riflessivo che punta tutto sulla tragicità, di fatto, in qualche modo, della perdita, l'elaborazione del lutto, e, ancora di più, forse, più che sul pensare a certe cose, sul provare certe cose, questo, probabilmente, è il film che fa per voi, e quindi, nel caso, ve lo consiglio. È Single Man, di Tom Ford, una interessante opera prima. di Tom Ford,